La cosa più bella, quando i ragazzi acquistano fiducia attraverso i segnali concreti che le istituzioni sono vicine, sono in grado di mantenere un impegno, educa ad avere fiducia nello Stato è una cosa più importante, al di là del riconoscimento al governo e ai colleghi che hanno operato qui, credo che il segnale sia da logica a questo parco, dai carabinieri, dalla Guardia Finanza, dalle Forze dell'Ordine, tutte che sono al diante dei cittadini, di insieme ai cittadini a garantire quella sicurezza necessaria per garantire la libertà, che è il vero elemento che va garantito a tutti i cittadini, ma che spesso le persone che si possono permettere più facilmente abitando in zone più sicure, invece deve essere garantita a tutti, in primo luogo a chi ha affrontato il disagio, allora oggi con questi alberi che per la libertà di questa giornata, alla natura e alle piante, si dà un nuovo riscontro che conferma che lo Stato c'è, c'è per vita e in primo luogo c'è per la generazione della società della Russia, ragazzi.